16 maggio 2023, 16 maggio 2024. È passato un anno dall'evento alluvionale che si accanì sull'Emilia Romagna in una tragedia che causò 17 vittime. Un'alluvione che ebbe la sua coda di devastazione anche nella provincia di Pesaro Urbino, contando decine di milioni di danni materiali. Fu un 16 maggio di pioggia violenta, troppa per essere contenuta da strade sotto passaggi trasformati in torrenti e laghi. E poi il Genica, che si gonfiò a dismisura finendo per esondare. Il tutto aggravato da frane e smottamenti nelle aree collinari e a pagare pegno furono abitazioni con alcune evacuazioni, ma soprattutto aziende e siti produttivi con danni ingenti. La ricognizione della protezione civile nazionale sulle strade portò a stilare quel rapporto che indusse il governo ad emanare lo stato d'emergenza in un percorso diverso da quello romagnolo e nel pesarese circoscritto per sette comuni. Appunto quelli di Pesaro, Fano, Urbino, Gabiccemare, Monte Labate, Monte Grimano Terme e Sasso Corvaro Auditore. Stato di emergenza che proprio nel mese di maggio corrente è stato prorogato di oltre 12 mesi. Territori e luoghi danneggiati che sono alle prese con l'iter burocratico di risarcimenti e ristori promessi dal commissario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo che lo scorso ottobre in visita a Pesaro annunciò 55 milioni di euro di nuove risorse per i sette comuni in questione da aggiungere ai primi 4 milioni stanziati in somma urgenza.